Non si ferma Andrea Camilleri. A 92 anni lancia il suo nuovo romanzo e racconta sono cieco ma perdendo la vista a tutti gli altri sensi si riacutizzano, vanno in soccorso. La memoria è diventata più forte, ricordo più cose di prima con molta lucidità e scrivo sempre. È vero, aggiunge Camilleri, scrivo con un po' più di lentezza per la felicità di tutti quelli che dicono Camilleri scrive troppo. Ma qual è poi la misura? Per continuare a farlo si è inventato un teatrino visivo mentale e che lo aiuta a tenere in mente quello che ha appena dettato, spiega l'autore del Commissario Montalbano di cui è appena arrivato in libreria un mese con Montalbano, riedizione Sellerio che si è ripresa il titolo Mondadori e la rete di protezione Sellerio, il primo romanzo da cieco, spiega Camilleri. Con grande generosità l'autore di Montalbano ha raccontato i suoi esordi e il work in progress che è stata la sua scrittura. Se ho pubblicato da vecchio non è stata colpa mia ma degli editori. Nel 68 avevo finito di scrivere il mio primo romanzo e ho cominciato a mandarlo a tutti gli editori e non ce n'è stato uno che non lo abbia rifiutato, alcuni motivandolo. Tutta la storia è durata dieci anni, ecco perché ho cominciato tardi. Non lo avevo mandato a Sellerio perché allora non esisteva, ha spiegato. A Elvira Sellerio, che sarebbe diventata sua amica, aveva dato però quello che doveva essere il suo ultimo Montalbano, scritto a 80 anni. Lei lo mise in un cassetto della casa editrice e da qui è nata la leggenda che fosse in cassaforte. Ora l'ho rivisto, si chiama Riccardino, racconta Gammilleri. Lui ripercorre anche le contestazioni iniziali alla sua lingua, un mix di dialetto italiano, il vigatese, e lo definisce un work in progress. L'italiano mi diventava generico, le sfumature mi mancavano e allora ho usato una specie di shaker che a poco a poco ho cercato ambiziosamente di creare una terza lingua che fosse tutta mia e il risultato di questa commistione. Per noi siciliani l'italiano è rimasto un atto notarile, dice tra gli applausi della sala che è intervenuta alla presentazione. E questa lingua ha ricevuto la comprensione di milioni di lettori. È successo questo miracolo, dice Gammilleri, e alla fine dell'incontro si alza, saluta con la mano il suo grande affezionato pubblico.